Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in Andronenica e bentornati su Inazuma Eleven Go Galaxy, gli amichevoli più difficili. Dopo aver finito gli amichevoli di Gus Martin, ci troviamo al cospetto di Nelly e delle sue amichevoli finali. Dopo di queste ragazzi, Inazuma Eleven Go Galaxy kaput, finito. 3DS da parte, ci rivediamo se e quando uscirà qualcosa di interessante, sempre ovviamente riguardo mod. Io so delle cosette che voi non sapete riguardo Inazuma Eleven e delle mod, ma è tutto da definire se verrà poi mai completato. Quindi non vi dico nulla per il momento. Facciamo un ultimo sforzo, quante squadre sono? Sono 13 squadre, quindi penso che a un certo punto farò 3 squadre di fila, quindi saranno 6 episodi. Va bene, oggi c'è la Zeus come prima rivale, la Ultra Zeus dovrebbe essere questa. Sì, ah, vulcanici! Quella mi pare simbolo della Zeus, ed infatti lo è. Comunque, devo cambiare formazione effettivamente. Voglio provare Fulmine. Mi fa schifo a vederla così, eh. Però, boh, giochiamo, vediamo un po' che succede. Iniziamo con un piccolo passaggino, ma io direi di evocare Sandman qui. Se tanto ci sta, evochiamolo, magari riusciamo a superare qualche centrocampista, arrivando in porta magari. Loro vanno col totem, il portiere va col totem. Poseidon, che ti succede? C'è il totemino? Allora. Ah, perché non ho le tecniche però con lo... Ah, è di tiro. È di tiro, va bene, va bene. Allora, vediamo un po' come stanno messi. A te ti manderei qui, a te pure. Iniziamo un po', vai in armatura. Non è la scelta più ovvia andare in armatura subito, ma ragazzi, questi qui io ho paura che mi blocchino. Con Juleb ho un attacco e una difesa incredibili, tecnica, ho tutto, oh. Dato che siamo in attacco... E Festus, che evochi? Ah, la volpe? La volpe scinca? Bomba! Bomba! Bombarolo! Ascia del boia! Sono un po' esaltato oggi, eh. Così. Oh, 3100, beh, questa è God, ragazzi. Arriva in porta a 2.8. Oh, ha perso solo 200 punti, perfetto. Eh, 300 voglio dire. È parata? Ma sì, dai. Eh, infatti, mi sembrava... Anzi, ha fatto pure troppo, ha fatto veramente. Extra up, extra down, totem, montagna. Quindi, cos'era il down? Ah, forse ha un'abilità sicuramente che lo penalizza. Allora, 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 allora. Dov'è Juleb, però? Mi è andato via? Mi è andato qua sotto, mi è andato. Vai, vai in alto, vai, vai Tatino, dai. Ah. Sì, tanto c'era difesa. È inutile che ci provi. Taglio dimensionale perché oggi mi sento frizzantino, eh. Che dici, caro amico Afrodi? Ciao. Con Zack, ce l'ho? Ah, ho maestro. Ho anche Zodiaco. Sì, gli ho dato maestro di base, infatti è ancora a livello base. E ho Zodiaco. Evochiamolo. Maestro... Mi piace come spirito maestro. Però ho Zodiaco al massimo. Purtroppo do gli spiriti, poi dico, vabbè, dopo lo alleno, poi non lo faccio. Perché mi dimentico. Allora, siamo molto lontani, però essendo... Eh, perché è montagna, poi. Perché ho fatto il Miximax, per questo ho Zodiaco. Vabbè, eh... Prigione Purpurea, vediamo che combina. Prigione Purpurea. Buono! Potrebbe pararla stavolta. Arriverà in porta a 1.600? 1.800? Ah, pensavo peggio. Eh, questa volta può pararla tranquillamente, eh. Se prima ho fatto 2.000... Eh, infatti sì, 2.000 e 4, cavolo. 2.000 e 4, tanto, eh. Ma dai! Ma perché non l'ha presa? Ma... Ma guarda te... Ma guarda tu che cosa mi tocca vedere. Dai! Ah! Il colpo supremo! È la magia! Ma che cosa, 1.078? Ma che pipa! Ma che pipa! Ma neanche ti meriti di far vedere la mossa. No, niente da fare. Aspetta, però. Il martello d'oro. Destra? Sì! Mi piacerebbe... No, no, no. Tu mi sa che non hai capito niente, Demeter. Che poi, tra l'altro, Demeter è uno dei miei personaggi preferiti per quanto riguarda la Zeus. Pioggia? Del giudizio. Ah, raggio! Pioggia, ho letto. Raggio. Sì, sì, sì. Bella questa. Molto forte. Si addice a uno di fuoco come lui. Bello. Ok, cross. E via verso la vittoria con un altro gol. Oh, stavolta ti sono molto vicino. 90. Non perderà molto. Rimane a 40. Sì, con un altro... La prossima volta che prende palla vai in armatura e tanti cari saluti. 2007, guardalo qui. Guarda che roba. Tanto non faccio vedere tutte quante le scene. Poi, come sempre, taglio. Goal. Vabbè, questo era ovvio che era goal. Ragazzi, sto sdrumando la Zeus. Ma si sa che le squadre più forti sono sempre verso la fine. Anche se l'altra volta ho fatto un bel 5-0. Vorrei dire che le squadre finali... Attenzione. Sapete che Stella Nera mi piace molto. Però urlo dell'Eden nella sua signature move. Dai. Vediamoci sto urlo. Cosa urla? Dio? La Madonna? Eh, no. Un urla a Dio, no. Ok, 3-0. Bah, siamo quasi alla fine del primo tempo. Ora l'armatura... È un'idea intelligente quella che hanno fatto qui. Perché purtroppo hanno messo i totem. Però dovevano farla anche nell'altra... Allora, in Crono Stones l'hanno, diciamo, pensata e messa in atto. Ma qui l'hanno migliorata. Ovvero che l'armatura si finisce molto più velocemente i punti. E infatti Gandarest sta quasi per finirli. Ma è giusto. È giusto che si finiscano subito. Il possesso palla da parte della mia squadra è inesistente. Però intanto sto 3-0. Comunque. Wonderbot in campo insieme a te Scat. Wolfram li facciamo... Mettiamo qui. A te ti mettiamo qua. Il portiere, tra l'altro, ha sprecato pochi punti. 3 cambi ho fatto. Ah, sì, 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 sì. Eh, vabbè. Oh, no. Perché non gli ha rubata? Ah, così. Uno forte di questa squadra è Hermes. O meglio, su una Zoom Eleven 1 Hermes faceva spavento, ragazzi. Davvero, davvero forte come giocatore. Però mi stava sulle palle. Wonderbot! Wonderbot! Oh, Wonderbot! Oh! Oh! L'ha fatto! L'ha fatto Wonderbot! Ma Wonderbot gli ha dato qualcosa? Tipo lo spirito? Tipo un... Un marchi... Un... Un zecca carbuglio qua? Che gli ha dato qualcosa? Ce l'ha? Ah, Avarius! E Ixal! Ah! Vabbè, andiamo un po' con Ixal. Male che va. Male che va. Molto lento. Fulgore maestoso e uragano tempestoso. Io sono frizzantino oggi. Fallimento. Oggi fallisco. La può parare? No. Non la para. Vento. Ah, vento, certo. 4-0. Bah! Bah, sta Zeus! Boh! Che poi, tra l'altro, non sto usando neanche troppi top rankers alla fine. Neanche i Miximax, quindi... Ma, mi posso ritenere soddisfatto, eh. Beh, è facile fare la tattica Fear. Ci riprovo? Uh, ah, velocità. Più veloce. Arriva in porta più veloce. Perdi meno potenza, quindi. Ah, ah, sì! 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 Barriera monolitica! Anche la rete fa i versi nell'anime. Vediamo un po' se test cut riusciamo a fare il 6-0. Eh? Non credo, però, eh. Lui è molto forte in difesa. Ragazzi! Finita 6-0 la prima partita! Ecco, stemma oltre a Zeus, sì. È sbagliato la traduzione. Non importa. Ragazzi, ora partita contro la Genesis! Va bene, ragazzi. Loro si conoscono, dai. Witz è forte, però, eh. Sarebbe da mettere in squadra. Ark, Kiburn, Zohen, Kiewil, Komer, Hauser, Gele, Zack E Nelson Rockwell. Nero. Nero è forte. Nero è molto forte. Nero potrebbe dare del filo da torcere. Allora, facciamo come prima? No. Come prima no. Facciamo una cosa un po' diversa. Mamma mia, ragazzi. Non ci si... A parte che sullo schermo del computer non ci si vede niente, ma sul 3DS è ancora peggio. Andiamo con Various. Sì, lei ha il Miximax con... Con. E... Vabbè. Oh. Pelo viola? Ah. Dicevo, il totem con Buddy. Eccolo mi è venuto in mente. Iper Mossa! Vai, fammi vedere quanto è. Super veloce? Oh! Sì, il Various è una specie di velocità. Però... In teoria, mi piacerebbe di più Tacchione, ma per lei era meglio Various. Quindi superiamo ancora con... Ipa! Mossa! Hyper Move! Yeah! No! No! Allora, 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 allora. Possiamo? Oh, frecce a plasma. Ok, ok. Oh! Tiro! Non ho nulla, ma tiro. Ah! Cioè, non ho nulla come spirito totem. Lucidità! Quindi è più... Più veloce a pararla? Come... Come funziona? Traiettoria orbitale? Va bene, va bene. L'ho vista 14.000 volte, anche in altri video. Che fai? Col totem! Totemu! Più forte. Addio, addio, insomma. Insomma, una pippetta pure lui, eh. Se avevo qualcosa pronto, lo strumavo. Ah, dunque. Lui è in fuorigioco, ma lui... No. Ok, ora. Colpo di testa. Ah, colpo totem. Uragano bianco dovrebbe seccarlo, anche se si è a vento. Io sono molto fiducioso di uragano bianco, eh. 2002. Così? Ahia! Ahia! Però ha fallito, quindi non ha nulla. Potrebbe parare... Potrebbe parare comunque... Falle. Vabbè, se ho capito. Devo per forza evocare il totem, ho capito. C'è poco da... Il... Bisogna per forza evocare lo spirito, c'è poco da fare. Lancelot, vai un po'? Mi stai simpatico tu con l'Ancelot, quindi... Ora... Ancora Mistral, va bene. Ora... Siamo troppo vicini. Stella nera. Sono... Sono montagna. Sono foresta. Ti batto perché sono foresta. Con l'elemento. E sono talmente vicino che la forza non scala di molto. Quindi, tu, cosso coso, te ne vuoi andare? Oh, eh, mille e quattro ora. Ora fa mille e quattro, no? Prima. Elemento. Però dico, cioè... Che palle. Ah, ok. Ok, va. Effettivamente va. Eh, vabbè, sì, qui era ovvio che ci arrivasse. Però non è del tutto perduto. Amico mio! Oh, Arculus! Arculus, vai! Lost Angel! Oh, aumenta il 250 punti la parata. Lost Angel! Proprio in giapponese. Lost. Lost Angel! T'arriva a 2008! Se fa come prima, a 2008 non ci arriva. Arriva a 2003, 2004. Anche 2005. Sì! Beccati questa! Vai! Così, ragazzo! Bella! Grande! Grande ciccetto, grande ciccetto. E siamo a 34 gradi, ragazzi. Io sto letteralmente cuocendo. Se non fosse grazie al ventilatore, ma... Lo tengo un po' girato, quindi mi... Mi raffresca la parte dietro. Perché sennò va contro il... Contro il microfono e... Non si sentirebbe nulla. Ma solo un fruscio fastidioso. Dico solo. Oh, Gianni! Gianni attacca panni. Vedi un po' che devi fare con... Con... Icredes! Il nome è... Icredes. Vabbè, sì, lampie fulmine. Abbiamo capito. Allora. Lampie fulmini. Ragnatela. Trina è top tier, Trina. Best difensi... Best difensi... 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 Difensore, non esiste a femminile. Difenditrice? Ah, aspetta. Aspetta, però. Zona micidiale è standard. Non farà molto. Mi ero dimenticato di avergliela data. Ah, ma è normale e fa tutto quanto sto casino? Beh, ragazzi. Io direi che è buono. È molto buono! La foresta, sì. C'era l'elemento. Molto buono, 3-0. Stavo per dire, no, Trina, top difensi... Difensore, non esiste. Femminile, come lo metti? Ah, il re mi sembrava quello classico, perché dico... Ha il mantello, dico, ma che è successo? L'ha messo con impostore. L'altra volta ho detto che era con victory. In realtà era con impostore, perché è ancora più forte. Wow, certo. Un gigante contro un soldato di Marley, vorrei ben vedere. Una preference un po' ambigua. Che abbiamo? Davanti a nessuno. Figuriamoci, Andralink, se qualcuno è davanti con questo schema che devo cambiare un'altra volta. Ok, ora sì, però, quanto corta l'ho mandata. Ok, vai. Vai, fammi vedere che sai fare. Tra l'altro, fine primo tempo, eh. No, dai, ho toccato proprio sullo scadere. Che palle però, qui proprio, oh, allo... Quando scatta il 30, preciso, finisce. Mamma mia, che fiscalità, manco di svizzeri. Andiamo a sinistra, non la bloccherò mai. Grazie, grazie, signorina. No, signore, chi ha Xin? Mi sembrava una femmina. Dico se mi calpesta, però invece è Xin, quindi no, grazie. Non sono in quel genere di cose con i maschi. Per dire, per dire. Se a voi piace, per me, no? Ok, 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 ok. No, no, era? 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 Perché era? Non è mai? Oggi era? Eh, no, no, non oggi mi... Oh, cavolo, super tiro. Vai, carica il... Fai il tiro guidato. Vediamo un po'. Vabbè, la parano senza che lo sto a vedere. Ragazzo mio, ora ragazzo mio! Vai. Afflato bianco. Sancisce il 4 a 0. Oh. Guarda, che bomba. 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 Facciamo anche il quinto? Eh? Facciamo anche il quinto, direi? Ma dove ti presenti? Vai, in bocca proprio, sui denti. Naso, labbra e dente. Tutto aperto proprio lo facciamo. Tutto aperto, vai. Così ci piace, tutto aperto. Uh, secondo tempo finito, meno male. Ragazzi, mi hanno fatto un attacco serratissimo quest'ultima parte del secondo tempo. Proprio quattro tiri in porta di fila, tra cui il quarto perché quando tu fai il rinvio la palla non arriva mai più lontano della linea del punto di rigore. A volte sì, ma la maggior parte delle volte no. Comunque, anche questa 4 a 0. Vediamo un po' che ci danno come ricompensa. Colpo supremo. Ah, non mi dispiacerebbe effettivamente. Non mi dispiacerebbe. Oh, queste due partite ragazzi sono state molto molto belle. Mi è piaciuto. Bene ragazzi, come sempre io vi ringrazio per aver seguito questo episodio. In descrizione trovate sempre il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale magari iscrivetevi. Noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!